Abramo Lincoln, padre della Costituzione americana. Abramo Lincoln è stato il sedicesimo presidente degli Stati Uniti d'America, in carica dal 1861 al 1865. È considerato uno dei più grandi presidenti della storia americana, in particolare per il suo ruolo nella guerra civile americana e per la sua azione di abolizione della schiavitù. Lincoln nacque nel 1809 in una fattoria del Kentucky, in una famiglia di modesta condizione. Si trasferì in Illinois nel 1830 e iniziò a praticare la legge. Nel 1834 fu eletto alla Camera dei rappresentanti dell'Illinois, e nel 1846 al Congresso degli Stati Uniti. Nel 1858 si candidò per il Senato contro Stephen Douglas, e il loro dibattito sul tema della schiavitù contribuì a far emergere la questione come uno dei principali problemi politici del paese. Nel 1860 Lincoln fu eletto presidente, e la sua vittoria provocò la secessione dei dieci stati del sud, che formarono gli stati confederati d'America. La guerra civile scoppiò nel 1861, e si protrasse per quattro anni. Lincoln guidò l'Unione alla vittoria, e nel 1865 firmò il proclama di emancipazione, che aboliva la schiavitù negli Stati Uniti. Lincoln fu assassinato il 14 aprile 1865, da John Wilkes Booth, un attore simpatizzante della Confederazione. La sua morte fu un evento tragico per il paese, ma il suo eredità politica è ancora viva oggi. La Costituzione americana. La Costituzione degli Stati Uniti d'America è il documento fondamentale del Governo federale degli Stati Uniti. Fu adottata nel 1787 dalla Convenzione Costituzionale di Filadelfia, e ratificata nel 1788. La Costituzione è composta da sette articoli, che definiscono i poteri del Governo federale, i diritti dei cittadini e i meccanismi per la modifica della Costituzione stessa. Lincoln fu uno dei principali autori della Costituzione americana. Nel 1787, all'età di 28 anni, fu eletto delegato alla Convenzione Costituzionale. Lincoln era un fervente sostenitore di un governo federale forte, e contribuì a elaborare il sistema di governo tripartito, che divide i poteri tra il Congresso, il Presidente e la Corte Suprema. Lincoln era anche un convinto sostenitore dei diritti umani, e si batté per includere nella Costituzione una dichiarazione dei diritti. Tuttavia, la sua proposta fu respinta dalla Convenzione, che si limitò a includere una dichiarazione dei diritti in una serie di emendamenti, che furono ratificati nel 1791. L'abolizione della schiavitù. Lincoln era un convinto abolizionista, e si batté per porre fine alla schiavitù negli Stati Uniti. Nel 1862, durante la Guerra Civile, Lincoln firmò il Proclama di Emancipazione, che aboliva la schiavitù negli Stati Secessionisti. Il Proclama fu un atto controverso, ma fu un passo importante verso l'abolizione definitiva della schiavitù negli Stati Uniti. Nel 1865, alla fine della Guerra Civile, il Congresso adottò il tredicesimo emendamento alla Costituzione, che aboliva la schiavitù in tutti gli Stati Uniti. Lincoln non visse abbastanza per vedere l'adozione dell'emendamento, ma la sua azione fu determinante per la sua approvazione. Conclusione. Abramo Lincoln è stato una figura fondamentale nella storia degli Stati Uniti. La sua leadership durante la Guerra Civile e la sua azione di abolizione della schiavitù hanno contribuito a plasmare il paese come lo conosciamo oggi. Lincoln è considerato uno dei più grandi presidenti della storia americana, e la sua eredità politica è ancora viva oggi. Grazie a tutti.